La Commissione XII prosegue oggi le audizioni informali in videoconferenza sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia degli auditi che dei deputati secondo le modalità stabilite dall'Aggiunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto inoltre che in base al citato parere adottato dall'Aggiunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni dispongo pertanto l'attivazione dell'impianto. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. All'audizione odierna sono presenti Maurizio Di Mauro direttore generale dell'azienda ospedaliera De Colli di Napoli. Roberto Parrella direttore dell'UOC Malattie Infettive ad indirizzo respiratorio presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Francesco Menichetti direttore dell'UOC Malattie Infettive presso l'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Paola Scerto direttore dell'Unità Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori X Fondazione Pascale di Napoli e Giuseppe Polito direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Chiedo preventivamente ai nostri auditi se è possibile magari di riuscire a mantenere l'intervento entro dieci minuti in modo tale che diamo spazio alle domande e poi potrete replicare. Questo purtroppo anche per riuscire a conciliare l'audizione con l'aula che poi riprenderà. Quindi a questo punto darei la parola a Maurizio Di Mauro e a Roberto Parrella. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Spero mi sentiate. Mi sentite bene? La sentiamo. Perfetto. No, io per tutto vi ringrazio. Vi ringrazio di questa opportunità e per darmi la possibilità di poter, diciamo, descrivere brevemente quello che si è fatto a Napoli questo futuro fondamentalmente per affrontare questa emergenza che abbiamo avuto, questa pandemia. E certo, noi abbiamo adottato, diciamo, un processo di conversione dell'ospedale Codum, nel senso che abbiamo trasformato un ospedale che ha una tradizione per le malattie infettive, per aver, per il passato, diciamo, lottato contro l'AIDS, contro la SARS, contro le altre patologie infettive e l'abbiamo convertito in covid hospital. Quindi abbiamo messo a disposizione della regione Campania circa 200 posti letto nel giro di pochissimi giorni. Dopodiché una delle indizioni fondamentali è stata quella di trasferire a Codumio un'unità di subintensiva respiratoria che afferiva all'ospedale Monante. Perché ci siamo resi conto che le problematiche legate proprio a questa affezione virale erano fondamentalmente le patologie di tipo respiratorio. Quindi io, da direttore generale dell'azienda, mi sono occupato fondamentalmente dell'organizzazione di questi processi. Ecco perché ho chiesto che mi affiancasse oggi il dottore Barrella, che è il responsabile della unità operativa complessa di malattie infettive all'indizio respiratorio, in modo da poter dare un contributo anche ai deputati più di tipo scientifico per quello che è stato adottato in termini di protocollo, in termini di terapie. Terapie sulle quali, devo dire, i nostri professionisti si sono adeguati di giorno in giorno, verificando quotidianamente quali erano le sintomatologie che questo virus provocava. Quindi dall'effetto tromboembolico all'effetto, diciamo, sulle patologie respiratorie e sulla fluidicità dei primi giorni. Abbiamo visto pazienti arrivare nel nostro proprio corso e in due ore portarli in terapia intensiva ed in due parti, proprio perché andavano incontro a questa gravissima polmonite interstiziale, quindi a questa fibrosi polmonare. Per cui ho limitato il mio intervento a questo, un intervento, diciamo, di tipo organizzativo e lascerei la parola al dottore Barrella per la parte più di lì di mente dal punto di vista scientifico. Salve a tutti, buongiorno e grazie per l'opportunità. Come diceva il direttore generale, noi nell'emergenza Covid abbiamo organizzato, meglio, riorganizzato l'ospedale, un po' come hanno fatto tutti gli altri ospedali, strutture, l'ospedale Lanzana e gli altri, guardando in prima battuta quella che doveva essere l'infection prevention e controllo, perché abbiamo ritenuto fondamentale diciamo, arginare la diffusione del virus ancora prima, diciamo, che nella popolazione, nella parte, diciamo, dell'ospedale, del sanitario e quanto altro. Quindi abbiamo attivato una serie di procedure anche prima di ricoverare il primo caso di Covid, andando a fare simulazioni per il personale, medico, sanitario e quanto altro. Procedure di vestizione e svestizione che sono diciamo, alla portata di medici che si sono aggiornati su linee guida nazionale e internazionale, sono state poi calate nelle criticità che potevano essere presenti nelle strutture ospedaliere, nelle varie unità operative. E questo è stato un aspetto molto attento e meticoloso della preparazione. Questo è stato fondamentale, devo dire che l'aspetto di creare un team multidisciplinare che avesse allo suo interno l'infettivologo, l'opneumologo, il subintensivista e l'animatore, ci ha dato la possibilità poi di preparare un altro documento, documento che era quello di gestione della parte clinica. Quindi abbiamo creato una sorta di sorveglianza all'interno dell'ospedale con degli scorri di tipo clinico che dalle parti di decenza ordinaria venivano trasmesse lì dove il paziente in qualche modo era ritenuto instabile, venivano trasmesse al subintensivista questo perché la patologia da subito è apparsa, è critica, è instabile, poteva evolvere in pochi giorni e quindi tutti gli operatori, anche gli infettivologi, sono stati trasformati in, tra virgolette, esperti di gestione subintensivistica. Abbiamo avuto l'apporto anche di due rianimazioni dell'altro plesso del Monaldi, abbiamo avuto un aiuto importante da parte del dottore Fiorentino che è venuto a supportarci con la subintensiva che ci sembrava un aspetto importante. L'altra criticità era, il discorso a cui si accennava prima, accesso alle terapie. Non esiste una terapia a tutt'oggi standard e valida per quanto riguarda il trattamento del virus che stiamo affrontando e quindi nella prima parte c'è stata una corsa, letteralmente una corsa a utilizzare sia farmaci in off-label, sia farmaci con autorizzazione per quanto riguarda uso compassionevole sia, e la parte più critica è stata questa, rientrare in alcuni protocolli di sperimentare per dare la possibilità ai nostri pazienti di avere le stesse opportunità terapeutiche e di avere a disposizione le terapie che in quel momento sembravano le più opportune, le più adeguate. E così abbiamo cominciato con una serie di protocolli, in serie, uno è quello del Tocilizumab che abbiamo portato avanti con il professore Ascerto, poi abbiamo seguito e siamo dentro al protocollo Tsunami, il QIPA e il professore Merichetti, siamo nel protocollo del Rendesi, questo è un aspetto molto importante che ci permetteva in qualche modo di seguire da un punto di vista clinico, gestionale e terapeutico i nostri pazienti. Grazie, grazie dottor Di Mauro e dottor Parrella. A questo punto do la parola al dottor Menichetti che trasmetterà delle slide, sì. Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio a lei. Sto condividendo, spero che vediate le diapositive. Sì, sì, le vediamo, le vediamo. Bene, grazie per avermi dato questa opportunità. La pandemia ha messo in crisi l'identità del medico e del ricercatore. Il medico cerca disperatamente di intervenire, salvando la vita del paziente. Il ricercatore è impegnato nel produrre evidenze. Talvolta questo può creare un'apparente antinomia. AIFA ci ha molto aiutato con schede informative e raccomandazioni sull'uso dei farmaci, poiché oggi, come oggi, noi non disponiamo di una terapia che abbia dimostrato sicura efficacia per il Covid-19. AIFA anche valuta le sperimentazioni cliniche. Finora, vedete, dei 144 studi valutati, hanno avuto parere favorevole 40. 34 sono stati già approvati, antivirali, idrossiclorochina, eparina, cochicina. Molti studi su immunomodulatori, ma pochissimi di questi studi hanno un elevato standard di disegno scientifico. Solo otto sono randomizzati con gruppo di controllo. Uno di questi è appunto lo studio sulla plasma terapia, noto come Tsunami Italia. Non vi faccio perdere tempo e vado direttamente all'essenza della terapia con plasma iperimmune. Chi ha la sfortuna di ammalarsi di Covid-19, ma la fortuna di guarire, probabilmente riesce a farlo grazie alla produzione di anticorpi, anticorpi neutralizzanti. Anticorpi neutralizzanti il virus che possono essere prelevati dal paziente convalescenti e poi trasfusi al paziente malato. Il meccanismo d'azione di questi anticorpi neutralizzanti compete direttamente con quello del virus nei confronti della cellula dell'ospite che verrà infettata. Quindi il presupposto teorico esiste completamente. È importante però che questi pazienti convalescenti abbiano una presenza di anticorpi neutralizzanti significativa, un titolo elevato. E si è capito che i pazienti che hanno un Covid grave sviluppano rapidamente titoli elevati di anticorpi neutralizzanti in 10-20 giorni, che durano per alcune settimane. Ma qual è l'evidenza scientifica sull'efficacia della plasmaterapia ad oggi? C'è veramente molto poco. Una rassegna del Cochrane su otto studi include solo 32 pazienti trattati con plasma iperimmune, senza gruppo di controllo, senza randomizzazione, tutti questi studi segnalano un miglioramento clinico in alcuni di questi pazienti, ma rimane assolutamente incerto se il miglioramento possa essere correlato alla plasmaterapia, alle altre terapie ricevute o sia frutto della naturale progressione della malattia. È da citare ovviamente l'impegno dei colleghi di Pavia e di Mantua che hanno disegnato tempestivamente uno studio proof of concept sulla plasmaterapia, un studio diretto a pazienti molto gravi, senza gruppo di controllo, i cui risultati non sono stati ancora pubblicati, ma sono noti e qui li riporto, i colleghi segnalano che in 46 pazienti da loro trattati dal 25 marzo al 21 aprile hanno avuto una letalità di solo il 6,5% che compara favorevolmente con una letalità generale del 15%. Concludono, e questo lo sottolineo, che il plasma iperimmune, che quindi dimostra dei benefici promettenti debba confermare le aspettative in studi clinici controllati. Uno studio di verifica teorica. Cito uno studio cinese importante pubblicato il 3 giugno perché è il primo studio randomizzato controllato che è stato in grado di includere 100 pazienti, che sembra un gran numero, ma purtroppo lo studio era pianificato per arruolarne 200, non sono stati in gradi a Wuhan di completare lo studio perché l'epidemia fortunatamente per loro e per tutti si è interrotta prima. Anche questo studio non riesce a cogliere un nitido, sicuro vantaggio per il gruppo che ha ricevuto la plasma terapia e quindi anche i ricercatori cinesi dicono che c'è bisogno di uno studio randomizzato controllato. La plasma terapia non è scevra di eventi avversi, reazioni allergiche, reazioni trasfusionali, un rischio di infezione trasmesso attraverso il sangue, altri eventi che debbano essere obbligatoriamente controllati. Quindi noi siamo di fronte a presupposti teorici importanti, a dati preliminari clinici di modesta qualità scientifica e necessitiamo gli studi clinici più ampi, randomizzati, prospettici, con gruppo di controllo per avere certezza di non trattare i nostri pazienti con qualcosa che non sia sicuro e che non sia efficace. Questo è dato o semplicemente ed esclusivamente da un disegno di studio randomizzato controllato, qui vedete la piramide dell'evidenza di cui vi parlò l'opalco qualche giorno fa e questo è esattamente quello che offre lo studio Tsunami Italia. Tsunami nasce a Pisa, ideato dal sottoscritto e dai collaboratori, il 6 aprile è approvato, ma poi riceve la richiesta del centro regionale sangue della Toscana, diventa il protocollo del consorzio Planet, quindi Lazio, Campania Marche e Sanità Militare e l'Umbria e, più importante, riceve la richiesta da parte di AIFA e l'Istituto Superiore di Sunità di essere utilizzato come modello di protocollo per una sperimentazione nazionale. Ecco che quindi Tsunami nato a Pisa diventa Tsunami Italia e in questa forma viene approvato dal comitato etico Spallanzani il 15 maggio. Tsunami Italia, che adesso ha come promotore AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità, raduna al momento 64 centri clinici e 65 centri trasfusionali, qui li vedete in colorazioni diverse, come diverse sono le epidemie italiane, c'è quella Bergamo-Brescia e Lombardia, c'è quella delle altre regioni del nord, c'è anche la Toscana, perché è la quinta regione interessata, ma non c'è assolutamente paragone con la situazione della Lombardia e del nord e poi ci sono le regioni che fortunatamente hanno una minore diffusione del nord. Cosa vogliamo rimostrare con Tsunami Italia? Vogliamo ridurre la necessità di ventilazione meccanica invasiva nei pazienti trattati precocemente. Per far questo avremmo bisogno di un numero rilevante di pazienti, 474, che adesso, devo dire, con l'andamento attuale dell'epidemia mi pare un obiettivo veramente molto ambizioso. Il disegno prevede però due analisi ad interim e la prima si potrebbe realizzare con 120 pazienti. La selezione dei donatori, la faccio breve, avviene secondo le indicazioni del Centro Nazionale Sangue, quindi non ci inventiamo assolutamente nulla. Il plasma del siero positivo viene qualificato attraverso la diretta titolazione di anticorpi neutralizzanti, che non devono essere inferiori a un titolo di 1 a 160, viene inattivato dalle officine trasfusionali dell'ospedale e stoccato e conservato in ospedale. Tsunami Italia è un protocollo che si fonda esclusivamente sulle risorse messe in campo dai centri trasfusionali, dall'officine trasfusionali degli ospedali italiani. I trasfusi saranno i covid lievi moderati che non hanno una gravissima insufficienza respiratoria. Per concludere, Tsunami Italia è lo studio necessario per dimostrare sicurezza ed efficacia della plasma terapia iperimmune, ma il futuro di questo studio sarà strettamente legato ad alcune variabili. Uno, l'andamento dell'epidemia di covid-19, che adesso è fortunatamente in fortissima flessione, almeno alle nostre latitudini, non purtroppo ancora al nord e in Lombardia. Alla pubblicazione di risultati di studi analoghi al Tsunami Italia, magari negli Stati Uniti, che su grandi numeri ci dimostrino la sicurezza ed efficacia o la mancanza di sicurezza ed efficacia di questo presidio. Ha una migliore conoscenza della risposta immune all'infezione da SARS-CoV-2 e all'eventuale sviluppo, questo sì da parte dell'industria farmaceutica, di gamma globuline iperimmune. La raccolta e la qualificazione del plasma iperimmune, opportunamente congelato e stoccato a cura dei centri e delle officine trasfusionali, sarà comunque un'utile risorsa a cui poter ricorrere in caso di una nuova ondata epidemica. Grazie della vostra attenzione. Grazie, professor Menichetti. A questo punto do la parola al dottor Paolo Scerto. Prego. Buon pomeriggio, signor Presidente. Grazie per l'opportunità che mi viene data nel parlare di quello che è stata, che è tuttora in corso, la sperimentazione con il tocilizumab. Ora, perché a un certo punto abbiamo pensato di utilizzare gli anti-interleuchina 6 in questi pazienti affetti dal distress respiratorio dal Covid-19? Perché quello che noi facciamo quotidianamente è trattare i pazienti con cancro con l'immunoterapia. L'immunoterapia risulta efficace, ma a volte da anche effetti collaterali. E uno di questi effetti collaterali è rappresentato proprio dalle polmoniti immunoindotte, che in genere vengono trattati con il cortisone a alte dosi, ma ci sono dei casi resistenti al cortisone e in questi casi resistenti si utilizzano altri immunosoppressivi, tra cui anche il tocilizuma, per esempio. Il tocilizuma poi è molto ben conosciuto tra gli ematologi e tra coloro che utilizzano le cosiddette CAR-T cell, che in questo momento sono state approvate anche in Italia per alcuni tipi di leucemia e di linfoma. E questo effetto collaterale è dovuto proprio alla secrezione, quindi alla produzione da parte delle cellule, le famose CAR-T, che vengono inoculate nel paziente, di citochine. Quindi la tempesta citochinica di cui tanto si parla è dove l'interleuchina 6, una di queste sostanze, è poi responsabile sia dello shock ipotensivo che anche di un distress respiratorio molto simile a quello che si è visto nel Covid-19. E infatti nelle autopsie dei pazienti morti in Cina, che sono state fatte da alcuni colleghi cinesi, si è visto che nel microambiente del polmone c'era un aumento di quelle che vengono chiamate cellule dell'immunità innata, macrofagi tecnicamente, che poi producono sostanze tra cui l'interleuchina 6. Quindi anche in questo caso il distress respiratorio era da mettere in relazione alla tempesta citochinica dove l'interleuchina 6 rappresenta una delle più importanti nel generare questo effetto. Da qui l'idea di utilizzare degli anti-interleuchina 6, qui ne vedete menzionati 3, tra cui il tocilizumab. Quando abbiamo fatto un brainstorming per pensare a qualcosa che potesse aiutare questi pazienti facendo un buon raffronto con le polmoniti che noi avevamo in seguito all'immunoterapia, abbiamo pensato al tocilizumab e poiché qui in istituto tumori abbiamo una partnership con alcune istituzioni cinesi, abbiamo contattato i colleghi cinesi i quali ci avevano detto che avevano anche loro pensato a questa strategia, addirittura l'avevano utilizzata su 21 pazienti e in 20 di questi 21 pazienti avevano avuto un recupero in 24-48 ore. Per questo motivo dopo questa conversazione con i colleghi cinesi personalmente ho contattato il dottore Montesarchio che è il direttore della struttura di oncologia medica dell'azienda De Colli, di cui il direttore Di Mauro qui presente è il direttore generale, anche noi collaboriamo per l'immunoterapia, gli ho spiegato questo razionale e devo dire che grazie poi anche all'intervento dei due direttori generali, il direttore Di Mauro e il mio direttore generale, il dottore Bianchi, si è creata il giorno successivo a questa conversazione che era il 7 marzo, una task force al Codugno dove tutti insieme con il dottore Parrella anche qui presente, altri infettivologi e rianimatori dell'ospedale Codugno, una task force per iniziare il trattamento nei pazienti con questo distress respiratorio con il tocilizumab. I primi pazienti che abbiamo trattato sono stati dei pazienti in cui c'è stato un risultato importante e quindi in quel momento abbiamo pensato di mettere su uno studio clinico. Devo dire che è stato fatto un lavoro eccezionale sia dal dottor Franco Perrone che è il primario dell'ufficio sperimentazioni cliniche qui dell'istituto tumori, nonché da AIFA perché si è finalizzato uno studio clinico in 10 giorni, quindi si è iniziato a parlare il 9 marzo, il 19 marzo è stato aperto il sito web per l'arrollamento dei pazienti. All'epoca quando abbiamo disegnato lo studio non abbiamo pensato a uno studio di fase 3 randomizzato perché avremmo dovuto inserire un braccio di controllo con placebo e sinceramente non ci sentivamo di proporre a pazienti in terapia intensiva uno studio clinico con un braccio di controllo con il placebo, anche se come è stato detto in precedenza questo è lo studio che da un punto di vista tecnico è lo studiale, per cui abbiamo disegnato questo che viene chiamato uno studio prospettico di fase 2 e abbiamo generato un'ipotesi. L'ipotesi era, utilizzando come parametro di riferimento quello che viene chiamato primary point, il tasso di mortalità a un mese, abbiamo ipotizzato che l'utilizzo del tocilizumab, tra l'altro un dosaggio superiore rispetto a quello utilizzato dai cinesi, il dosaggio che noi utilizziamo negli effetti collaterali delle CAR-T-CELL, della sindrome di rilascio citochinico e quindi abbiamo detto se il tocilizumab è efficace dovrebbe ridurre per lo meno del 10% il tasso di mortalità a un mese, che all'epoca era valutato dall'Istituto Superiore di Sanità del 35%. Questo qui che vedete, perdonatemi l'inglese, purtroppo non ha avuto tempo di tradurlo in italiano, è il disegno dello studio. Sono stati quindi arrollati tutti i pazienti che avevano un grave di stress respiratorio, una saturazione dell'ossigeno inferiore al 93%, un rapporto PF inferiore al 300 e che dovevano essere intubati da non oltre 24 ore. Sono stati arrollati 380 pazienti trattati e adesso abbiamo anche i risultati e quello che è stato verificato a un mese è che è stato ottenuto un tasso tasso di letalità del 22.4%, quindi più del 10% prospettato, per cui diciamo lo studio in un certo qual modo è positivo, anche se manca del braccio di controllo. Con AIFA quello che si è fatto è anche di creare una cosiddetta corte osservazionale, quindi in maniera parallela al famoso studio. Tenete presente che i 330 pazienti sono stati arrollati in 20 ore, quindi lo studio aperto il 19 marzo praticamente in 20 ore aveva esaurito i famosi 330 posti e per questo motivo per mettere anche a disposizione comunque ulteriori dosi del farmaco si è creata questa famosa corte osservazionale dove qui vedete un dato riportato di 1781 pazienti, ma sono più di 2500 i pazienti trattati e questi dati comunque contribuiranno ad aggiungere un valore a quello che è stato visto nell'esperienza del fase 2 e qui in questa esperienza devo dire i criteri erano meno rigidi per cui anche i pazienti intubati da più di 24 ore potevano essere trattati con il tocilizzo, ma su questa corte le analisi sono ancora in corso. Io qui voglio farvi vedere delle immagini TAC di uno dei pazienti trattati al cotugno, tutti questi pazienti come diceva prima il dottore Parrella sono stati trattati al cotugno. Vedete un ragazzo del 93, 27 anni con nessuna comorbidità. Questo per dire di come il Covid comunque è interessato a non solo persone anziane con comorbidità, ma anche a volte giovani e che grazie a un trattamento di tocilizzo del 18 marzo ha avuto un miglioramento importante. Tra l'altro questo è un paziente che entrava con una gravissima insufficienza respiratoria. Abbiamo fatto anche altro nell'ambito di un'esperienza che possiamo dire off-label abbiamo utilizzato un altro antiterleuchina 6 attraverso la modalità di somministrazione sotto cute, il sarilum, questo come dicevo un altro antiterleuchina 6. L'abbiamo utilizzato in una corte piccola di pazienti 15, giusto per vedere se questo approccio poteva essere importante. Abbiamo avuto anche qui dei casi interessanti di risposta. Ovviamente sono casi cosiddetti aneddotici che non hanno purtroppo alcun valore scientifico se non quello di presentare i casi, ma questo è importante perché la strategia di utilizzo sotto cute potrebbe in qualche modo anche migliorare in qualche modo l'efficienza del trattamento nei pazienti. Al momento stiamo aspettando i risultati di due studi di fase 3, quelli che dicevamo prima con il controllo che utilizzano rispettivamente uno il tocilizum e l'altro il sarilumab. L'arruolamento di questi due studi clinici sembra essere concluso, per cui a breve avremo la conferma di quello che noi anche abbiamo visto. Ultima cosa è che da un punto di vista di tossicità il tocilizumab non ha mostrato nessuna tossicità aggiuntiva a quelle che erano state viste nell'esperienza dell'artrite reumatoide. Detto questo vorrei ringraziare tutti gli amici, ecco ho l'opportunità di farlo qui alla presenza del direttore Di Mauro e del dottore Parrella, tutti i colleghi anche del Cotugno perché questo è stato un gioco di squadra veramente importante che ha portato alla finalizzazione di uno studio clinico in tempi record. Grazie anche a quest'azione importante di AIFA che ha dimostrato responsabilità ed efficienza in un momento così critico e grazie per l'attenzione. Grazie direttore Ascerto, a questo punto concludiamo quindi con il direttore Giuseppe Polito. Prego. Grazie a tutti. Ricchetti che ha fatto un punto sulla procedura che è stata messa in atto in Italia e sulla quale mi vorrei soffermare perché è un'assoluta novità e l'Italia, anzi è un suggerimento ai decisori politici di prendere atto di una necessità di dotare AIFA di un modello di infrastruttura per la ricerca sui farmaci. Se noi non facciamo questo e colgo questa occasione che è quanto mai appropriata, abbiamo bisogno di definire un percorso per la valutazione dei farmaci. L'impegno preso con il decreto legge del 17 marzo da parte del governo di concentrare un percorso autorizzativo unico dei trial su due punti, ovvero sia sul CTS di AIFA e sul comitato etico dello Spallanzani. È stata una scelta coraggiosa, è stata una scelta che ha permesso di avere risposte in 48-72 ore dai diversi comitati che ha permesso l'avvio di studi, ma devo dire con sincerità che su circa 150 studi valutati di cui il meno del 30% ha avuto un primo parere favorevole, di cui un ulteriore 20% di quel circa il 30% è stato bloccato dal comitato etico, dimostra che l'Italia ha bisogno di evitare studi doppione. È necessario che AIFA venga dotata di uno strumento per poter coordinare e condurre studi molti dei quali non riusciranno ad avere la dimensione campionaria sufficiente. Vorrei dire anche che con l'impegno che è stato assunto sia con il Tocirizumab che per lo studio tsunami, AIFA ha avuto un ruolo diretto. In più, grazie alla opzione dello studio tsunami che il professor Locatelli si era fatto artefice come Presidente del Consiglio di Sanità di definire un modello unitario già da febbraio per la definizione di questi studi, non si era scontrato con alcune difficoltà organizzative. Quando il professor Menichetti ha proposto tsunami, abbiamo riunito un comitato di coordinamento e in tempi rapidissimi si è addivenuti a una modalità. Vorrei anche usare questa occasione per dire che grazie all'attivazione di questo studio in Italia ci sarà un unico modello per fare la valutazione dei neutralizzanti. Quindi l'Italia, e questo lo dico non a favore dei colleghi ma lo dico a favore dei parlamentari, che l'Italia in questa maniera ha messo in atto un percorso di valutazione dei test molecolari, ha messo una valutazione dei test diagnostici attraverso il commissario per l'emergenza covid presso la protezione civile e ha messo in piedi un sistema per la standardizzazione della valutazione degli anticorpi neutralizzanti. Questi secondo me sono tre punti di forza che rimarranno dopo e soprattutto saranno utili per il futuro. In merito, purtroppo molti di questi studi non ci consentiranno di prendere decisioni definitive, sia perché gli assunti prima del disegno di questi studi erano fatti su conoscenze al momento ancora limitate, sia perché molti di questi studi, come ha detto già il professor Merichetti, non riusciranno a ruolare in maniera significativa. Una nota particolare è che nella pubblicazione il 3 giugno dello studio randomizzato al quale ha fatto riferimento il professor Merichetti è necessario dire che un importante editoriale della Johns Hopkins di Baltimora metteva, tra l'altro la parte di Arturo Casadevall, che è anche la persona che sta valutando i diversi approcci di plasma di convalescente negli Stati Uniti, arrivava a una conclusione che i dati di questo studio randomizzato americano, pur in tutto il significato anche su pochi pazienti che non potevano essere definitivi, però ci diceva che non si dimostrava un beneficio statistico nel miglioramento in termini di mortalità su tutti i pazienti randomizzati al ventottesimo giorno, anche se questo non era possibile escludere che l'uso del plasma di convalescente avesse potuto avere un effetto di tipo antivirale. Il secondo aspetto che in questi studi il bilanciamento delle diverse popolazioni, soprattutto sulle persone più anziane, può diventare una delle principali limitazioni che abbiamo usato e questa stessa limitazione è stata osservata anche in precedenti studi osservazionali e non randomizzati controllati. Quindi in questi giorni anche le persone non direttamente addette ai lavori stanno vedendo come sia necessario ridefinire una nuova politica di valutazione dei farmaci. Quello che è successo con il ritiro di lavori importanti pubblicati sull'Incept and Nature e l'Incept and New England, che sono come la Bibbia per chi si occupa di medicina, indica che bisogna ridefinire nuovi parametri di valutazione dell'efficacia degli interventi, soprattutto quando ci troviamo di fronte a malattie complesse precedentemente sconosciute per le quali spesso il ricorso a terapie che non escono da studi randomizzati può essere difficile da interpretare. Un'ulteriore aggiunta che è stata fatta in queste settimane tra i commenti che sono usciti dopo queste importanti retraction è che se una malattia che ha una letalità assolutamente inferiore a quello che era stato ipotizzato in una prima fase in tutto il mondo e questo per l'effetto accumulo può aver portato a considerazioni di potenziale efficacia di farmaci superiori a quelle che lo erano. L'aspetto conclusivo è che considerare che alcuni farmaci possano essere di beneficio solo in pazienti meno gravi non è sufficiente a giustificare risultati non forti da un punto di vista di potenza degli studi. Quindi una raccomandazione da un punto di vista tecnico è quella di aiutare gli organi deputati a fare questo a mettere in piedi sistemi che senza interferire con la libertà di ricerca e con l'impegno individuale. I due studi che sono stati presentati è un modo con cui AIFA ha riconosciuto l'impegno delle persone che avevano avuto questa idea ma bisogna far sì che l'intero paese si mobilizzi e se mi posso permettere che si crei anche un finanziamento ad hoc perché in Italia si possano fare studi indipendenti promuovendone l'applicazione su tutto il territorio nazionale. Credo che la sede nella quale stiamo parlando oggi sia la sede più adeguata per pensare che senza un modello di finanziamento forte per studi indipendenti soprattutto in situazioni inattese renda difficile affrontare nuove emergenze. In queste situazioni il rischio di trattamenti miracolistici o di situazioni che vengono poi smentite dai fatti o da ritrattazione di articoli pubblicati anche su riviste prestigiose può essere quanto mai pericolose. Un esempio per tutti è quello della decisione dell'uso della clorochina che ha visto anche i presidenti di altri paesi impegnarsi per l'uso della clorochina fino al totale ritiro dei programmi basati sulla clorochina e questo è avvenuto nel Regno Unito, in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e sta avvenendo in tutti i paesi. Quindi è importante cercare di prendere atto di questa epidemia e usare questa triste esperienza per il futuro. Grazie. Grazie a lei. Adesso vediamo se ci sono domande da parte dei colleghi. Allora, facciamo così, raccogliamo tutte le domande, dopodiché vi diamo modo appunto di replicare utilizzando lo stesso ordine. La collega Silvana Nappi, prego. Onorevole Nappi, se vuole essere, e vale anche per gli altri, se volete essere inquadrati durante la domanda, vi conviene mettervi qui. No, non c'è problema. Va bene. Onorevole, prego. Allora, grazie innanzitutto agli auditi perché hanno lavorato in un momento veramente difficile di una pandemia di cui non avevamo assolutamente conoscenza, quindi che ha colpito non solo il mondo scientifico, ma anche quello sanitario e quindi il loro impegno sicuramente è stato grande e vanno ringraziati tutti. Io volevo fare una domanda al dottor Menichetti perché lui ha parlato di una quantità alta di anticorpi solo come risposta ad una malattia conclamata. Allora, io vorrei chiedere al dottor Menichetti se il plasma iperimmune venga preso esclusivamente limitato alle persone che hanno manifestato la malattia e se sono stati dosati invece il titolo anticorpale in quelli asintomatici o pausi sintomatici. e se gli anticorpi neutralizzanti di queste persone, di queste ultime due persone, quindi quelli asintomatici e pausi sintomatici, non è sufficiente per poter essere estratto e determinare un plasma iperimmune. Quindi, e poi anche chiedere un'altra cosa, sempre al professore Menichetti, se il trattamento precoce, vuol dire quanto tempo dà la diagnosi, certo. Vorrei solamente un attimo perché il professor Menichetti credo che abbia problemi con l'audio, quindi... Va bene, non c'è problema. Tutto a posto? Può continuare? Va bene. No, volevo chiedere anche... No, è semplice, ma l'audio del menorevole matti andava e veniva. Segnalo solo questo. Sì, e se il trattamento che cosa vuol dire in dopo quanto tempo dalla diagnosi, perché lei ha parlato di un tempo abbastanza precoce per usare questo tipo di terapia, quindi volevo sapere più o meno i tempi. Grazie. Ci sono altre domande da parte dei colleghi. L'onorevole Sarli. Ringrazio anch'io, come la collega, tutti i dottori e i professori che stiamo audendo, sia per le notizie, ma anche per l'impegno e per il lavoro che hanno svolto finora. Anch'io una domanda per il professor Menichetti, ma semplicemente perché c'è una discussione in corso in questo periodo e volevo un suo parere. lui ha spiegato bene che lo studio non ha ancora tutti i caratteri per poter dire effettivamente la validità del plasma eperemune, però appunto magari continuare a prenderlo, a congelarlo per un'eventuale altra pandemia, insomma in attesa è tutto molto giusto. volevo sapere una sua opinione invece sull'ipotesi che si affaccia di investire verso la ricerca di questi anticorpi di sintesi che non solo potrebbero ridurre ulteriormente le nostre scorte di plasma iperimmune, stiamo parlando di una cosa appunto che non sappiamo ancora quanto abbia funzionato, con dei costi sicuramente diversi rispetto ai costi che invece sembra rappresentare, sembrano essere rappresentati quelli dal plasma iperimmune. Grazie. Grazie. Onorevole Siani. Sì, grazie, grazie molte. Volevo fare due domande. Un'osservazione ai colleghi del Cotugno e diciamo Colli. Quindi, se ho capito bene, l'asso e la manica che avete avuto, essendo tra l'altro stati identificati come il miglior ospedale d'Europa per zero contagi nei medici, è il team multidisciplinare che avete messo in atto. C'era un team che lavorava insieme e in cui tutti diventavano intensivisti. probabilmente questo è stato il motivo per cui, diciamo, avete avuto dei buoni risultati. Quindi, diciamo, quello che abbiamo imparato in questa pandemia, a parte la terapia, è anche lavorare insieme tutti e diventando tutti un po' intensivisti? Primo. Secondo, volevo sapere dal professore Ascerto, abbiamo dati sul follow-up, cioè pazienti trattati con l'immunoterapia. Come sono andati rispetto agli altri? E terzo, capisco che non si può fare uno studio con un placebo di animazione perché non penso che sia etico, ma avete paragonato diverse terapie, per esempio plasma con immunoterapia? Perché forse a questo punto della pandemia il dato, credo di capire, più significativo è sull'uso dell'immunoterapia rispetto al plasma come effetti benefici e poi capire anche nel follow-up dei pazienti quali stanno meglio in base a quali terapia hanno fatto. Questo lo state valutando? Lo valuterete? Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Onorevole Bagnasco. Sì, forse uscirò un attimino dallo stretto campo che hanno trattato i professori e che è stato sicuramente estremamente interessante per chiedere anche qualche altra situazione che sicuramente loro conoscono molto bene avendo la vissuta. Ovviamente la premessa è quella che i complimenti più sinceri per quello che hanno fatto, sicuramente all'interno della sanità italiana, l'esempio che viene da Napoli è un esempio importante e significativo. E non nascondo che ci fa particolarmente piacere che venga da una grande città del sud che potrebbe essere anche come stimolo per fare sempre di più e sempre di meglio. Comunque sono congratulazioni sincere e convinte che mi auguro possono portare, non dico fortuna, ma possono essere di stimolo per i risultati che sicuramente potrete ottenere in un prossimo futuro. Le mie domande però sono un pochino diverse. Io vorrei da voi avere un giudizio sulle indicazioni che ha dato l'Istituto Superiore di Sanità fin dall'inizio di evitare le autopsie. Io credo che questo sia un fatto molto importante e se mi consentite non una scelta particolarmente felice, però vorrei da voi una risposta molto chiara, molto concreta e molto puntuale. Perché è quello che ho potuto constatare, ma non solo io certamente, è che nel momento in cui si sono cominciate a fare un certo numero di autopsie si è cambiata anche un pochino in molti casi il modo di agire di molte echippe in tutta Italia e non solamente in Italia. Vorrei sapere quindi un giudizio vostro su queste indicazioni che evidentemente tutti o quasi tutti hanno recepito, ma che secondo me sono state particolarmente negative. Un'altra domanda è da quando avete cominciato? Da che periodo? Non ho capito bene, forse l'avete detto, ma non l'ho compreso. Da quando avete cominciato ad usare il plasma? Perché questo è stato sicuramente un risultato importante che, chiaro, come avete detto, non è ancora ufficializzato come metodologia di lavoro, ma che sicuramente è un punto di riferimento importante e che poi in tutta Italia in qualche modo è stato preso come punto di riferimento. Grazie. Allora mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi per le repiche io ricomincerei proprio dai direttori di Mauro e Parrella. Sì, ringrazio l'onorevole Sian per la domanda. Sì, effettivamente è così. C'è Cotugno ha lavorato in team, ma è l'azienda che fondamentalmente si è messa a disposizione tutta per cercare di circoscrivere tutto ciò che riguardava, diciamo, questa affezione virale. Per cui noi, come dicevo nell'introduzione, abbiamo trasferito proprio la pneumologia dell'ospedale Monaldi con il dottore Fiorentino e quindi abbiamo immediatamente creato una struttura di subintensiva alla quale hanno concorso gli infettivologi, i cardiologi e tutti quelli che chiaramente costituivano il team del Cotugno, quindi con la loro esperienza, la loro professionalità, la loro dedizione e a prescindere anche dai ruoli, perché è una cosa particolarmente, diciamo, emozionante per chi fa il nostro mestiere e vedere che il personale degli altri ospedali, diciamo, quando finivano il loro turno di servizio, anche smarcandosi il cartellino, andavano a dare il loro contributo ai colleghi del Cotugno. Parlo di infermieri, parlo di operatori sociosanitari, parlo anche di tutto ciò che è stata la macchina amministrativa. E noi abbiamo voluto anche anticipare quello che potrebbe essere, a procedere dal fatto che noi abbiamo una struttura che rimane attiva ancora oggi, con 60 posti letto di subintensiva tutti a pressione negativa e quindi possono anche convertirsi in terapia intensiva, dove ci deve essere una necessità, ma noi abbiamo istituito da subito un ambulatorio per il post-dovid, dove anche qui abbiamo messo un tipo multidisciplinare costituito da un cardiologo, da un infettivologo, da un endocrinologo, da un cramologo, proprio per seguire questi pazienti ormai, diciamo, negativizzati, che però chiaramente vanno seguiti del tempo, fino alla totale remissione di quelle che sono, diciamo, le condizioni più strettamente, diciamo, legate alle complicanze di questo virus. Noi vediamo ancora oggi, a distanza di tempo, che alcune di queste persone presentano ancora dei sintomi respiratori, fondamentalmente proprio da l'indagine che andiamo a eseguire. Quindi noi reclutiamo questi pazienti di volta in volta, li chiamiamo, li controlliamo, li teniamo e li monitoriamo continuamente. Questo per quanto riguarda la parte più pressamente organizzativa. Sì, volevo un attimo precisare anche questo. Noi siamo sicuramente consapevoli, diciamo, che le regioni del Nord hanno subito una spallata maggiore. Con i colleghi ci siamo sentiti spesso e tutto il nostro sostegno è sempre andato a loro che stavano affrontando una situazione di emergenza sicuramente anche superiore a quella che abbiamo vissuto noi qui nella nostra regione. Quindi la nostra vicinanza e il nostro apprezzamento per quanto è stato fatto è totale. quello che ci portiamo a casa è sicuramente anche questo, diciamo, la capacità di prendere decisioni rapide, di coagulare, diciamo, dei consensi rispetto a un discorso di emergenza e di essere flessibili, a questo mi differivo prima, lì dove bisognava essere flessibili perché coinvolgendo un ospedale che è abituato a fare un altro tipo di lavoro con alta professionalità ma qui si trattava di avere strumenti interpretativi totalmente diversi, abbiamo condiviso dei protocolli ma come penso abbiamo fatto un po' tutte le realtà, diciamo, ospedaliere e non ospedaliere che hanno affrontato questo problema e andando a dare degli strumenti anche a chi non era, diciamo, tra virgolette della branca per poter essere in qualche modo attivo e chiamare lì dove ce n'era bisogno subito in allarme lo specialista di turno che potrebbe essere il subintensivista o il rianimatore. E abbiamo dato anche lo strumento per poter gestire anche nel ricovero ordinario una serie di presidi ai quali da un punto di vista proprio di formazione professionale diciamo non erano abituati quindi è stato un arricchimento e un work in progress che è stato via via migliorato. Questo ho visto, come ha detto il direttore generale, coagulare insieme tutte le forze che quando parlo di tutte le forze significa che nel momento decisionale la mattina nell'unione della task force c'era dall'infermiere al medico al direttore generale all'amministrativo che doveva in qualche modo autorizzare e aiutare i medici. Per quanto riguarda le autopsie a cui forse ci si riferiva, domanda trasversale, sicuramente tante informazioni sono venute da quelli che sono i rilevi autottici. Nella prima fase probabilmente c'è stata un po' di cautela collegata all'emergenza, al discorso contagio e a gestire in un certo modo. Quindi sicuramente abbiamo avuto tanta informazione dei vari gruppi che hanno dato un input in questo senso. Grazie. Grazie. Professor Menichetti. Sì, ecco, ho attivato il microfono. Ringrazio l'On. Nappi per la sua domanda. Il titolo degli anticorpi neutralizzanti è qualificante per il candidato donatore di plasma iperimmune. La plasma feresi può essere realizzata soltanto da un convalescente che abbia dimostrato in modo diretto test di neutralizzazione o in diretto test sierologico che correli però molto bene col test di neutralizzazione la presenza di neutralizzanti ha un titolo uguale o superiore a una 160. Questo significa che oggi il programma di prelievo tramite plasma feresi di siero iperimmune va a selezionare un 30%, massimo 40% di candidati donatori. Tenete presente che quello che si sa è quello che ricordavo che la produzione di più alto titolo avviene dai covid sintomatici ospedalizzati che sono stati male. questo avviene in 10-20 giorni è molto rapido e dopo non sappiamo bene qual è il destino la curva di decadimento di questi neutralizzanti ma io ritengo che il tempo non lavori per noi quindi ci vuole molta prudenza e molta tempestività in questo progetto di rifornire gli arsenali del plasma iperimmune. il trattamento precoce è un po' diciamo la chiave rivolta per affrontare il covid l'abbiamo imparato il covid non deve essere affrontato tardi quando il malato è in grave insufficienza respiratoria e va in terapia intensiva perché lì i margini si sono molto ristretti e tutti gli interventi di qualunque tipo incluso quello della plasma terapia se ha dimostrato qualcosa l'ha dimostrato proprio nella fase più precoce nei pazienti meno gravi. per l'onorevole Carli che ringrazio per la domanda è certo il futuro non può essere il plasma iperimmune il plasma iperimmune è complesso lungo articolato una terapia pronte bisogna puntare affinché l'industria sia in grado di proporre le gamma globuline iperimmuni è molto più semplice sono titolati sarebbero disponibili su larga scala e quella è un fronte quindi che deve maturare rapidamente ma non maturare al plasma iperimmune ci pensa l'industria farmaceutica e l'altro è la ricerca degli anticorpi monoclonali reino rappuoli a siena è molto avanti nel suo programma di identificazione di monoclonali ma questo programma che noi stessi seguiamo non avrà un esito concreto prima di alcuni mesi eh per l'onorevole Siani eh la notazione eh che non bisogna arrivare alla terapia intensiva la sottoscrivo eh come dire completamente per l'onorevole Bagnasco eh ritengo che evitare l'autopsia sia stata una scelta non felice se la medicina impara qualcosa la impara molto dalle autopsie che altri hanno fatto che altri stanno stanno facendo l'onorevole Bagnasco e concludo la mia replica breve chiedeva da quando è utilizzato il plasma iperimmune noi sappiamo sicuramente che Pavia ha iniziato il 18 di marzo 18 di marzo nel pieno dell'epidemia e ha concluso l'arruolamento di suoi e la sua corte trattata tutta trattata con plasma iperimmune l'otto l'otto di maggio ma ribadisco che l'importante studio di Pavia e di Mantova è uno studio di verifica teorica è uno studio preliminare che ha bisogno di tsunami perché tsunami è lo studio randomizzato controllato prospettico con gruppo di controllo su grandi numeri l'unico disegno che ci può dare certezze di cui abbiamo bisogno grazie grazie direttore Ascerto se vuole aggiungere qualcosa Sì allora ringrazio l'onorevole Siani per le domande in particolare la domanda su di quanto il tocilizumab e comunque gli anti interleuchina 6 possano avere impattato nel recupero di questi pazienti allora una delle criticità in questo momento per questi pazienti soprattutto per quelli che sono stati in terapia intensiva è la fibrosi polmonare di quanto questa fibrosi polmonare possa impattare sulla qualità della vita non si sa e anche sul recupero ora è in questo momento difficile dire se in qualche modo il trattamento con il tocilizumab possa avere in qualche modo ridotta questa fibrosi polmonare perché perché manca del controllo però c'è da fare anche una considerazione nell'ambito dello studio che è stato disegnato perché a un certo punto c'è stato un ritardo nella consegna del farmaco sono stati trattati il 60 per cento poi dopo dei pazienti che sono stati inseriti nel sistema e tra l'altro questo è importante soprattutto nella corte osservazionale di cui vi ho parlato che cosa significa che c'è comunque un 40 per cento di pazienti che erano stati inseriti nel database dell'aifa e che poi non sono stati trattati che quindi possono diventare una sorta di controllo interno anche se lo studio non è randomizzato ma quindi questi possono essere utilizzati per fare una sorta di controllo è chiaro che analisi di questa corte in tal senso potranno dirci se effettivamente il trattamento possa avere anche impattato nel ridurre la fibrosi polmonare per quanto riguarda poi le diverse terapie se il tocilizumab in qualche modo è superiore io vorrei precisare che il tocilizumab serve nella fase della tempesta citochinica quindi nella complicanza e che quindi non agisce sul virus è stato detto anche prima chiaramente di come alcune terapie vedi anche il plasma potrebbero essere importanti nella fase pre tempesta citochinica e quindi quello che abbiamo imparato è che c'è una tempistica diversa per le diverse terapie e addirittura un antivirale qualora ci sarebbe in questo momento un antivirale specifico per il coronavirus sarebbe ovviamente da preferire a queste che sono trattamenti per 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 le complicanze per quanto riguarda l'onorevole bagnasco sul discorso dell'autopsia se se concordo che poi le autopsie sono importanti per che ci danno informazioni importanti devo dire che in un momento in cui c'è una epidemia importante di una malattia infettiva credo che la decisione dell'istituto superiore di sanità sia una decisione che va nel senso della sicurezza degli operatori tuttavia da quelle che sono le non formazioni che sono venute poi da alcune autopsie si conferma di come la tempesta citochinica è importante perché separato molto di queste trombosi che avvenivano non solo a livello del polmone ma anche a livello di altri organi chi in qualche modo conosce gli effetti della tempesta citochinica sa che per esempio l'interleuchina 6 favorisce gli eventi trombotici e poi alla fine se la tempesta citochinica non viene interrotta si va in quella che viene chiamata la multi organ failure dovuta alla cosiddetta coagulazione intravascolare disseminata quindi anche questo effetto delle trombosi che è stato visto ovviamente ha stato importante perché ha favorito l'aggiunta e l'uso terapeutico dell'eparina grazie grazie direttore polito aggiungere tre cose diverse alla prima all'onorevole salli sul futuro degli anticorpi monoclonali dicendo che sette giorni fa negli stati uniti è partito il primo studio con anticorpi monoclonali uno studio di fase una con un anticorpi monoclonali che sarà il primo commercialmente disponibile eccessivamente c'è un altro studio che sta per partire nei paesi bassi il terzo sarà lo studio che nasce da siena e poi ci sarà un quarto studio che è fatto dalla collaborazione tra italia stati uniti e canada quindi noi nell'arco dei prossimi mesi possiamo avere più monoclonali rispondendo decisando quello che ha detto il professor Mennighetti il gruppo di rapporti ha identificato oltre 100 monoclonali considerando che quello che parte adesso che è partito la scorsa settimana gli Stati Uniti ha interessato un primo candidato estratto quello di rapporti partito con eh sette poi diciassette adesso sono oltre 100 i candidati ai quali lavora quindi questo avere anticorpi neutralizzanti di buona qualità diretti contro la proteina spike del virus è sicuramente importante secondo commento eh eh all'onorevole Bagnasco io penso che sono d'accordo con Ascerto quando dice che in un momento di guerra e vi vorrei far notare che gli Stati Uniti è come se gli Stati Uniti la Lombardia non mi faccio sempre il confronto con New York la Lombardia è come se avesse avuto mille nuovi casi al giorno in questo periodo quindi pensare di produrre anche il meccanismo delle autopsie diventava estremamente una cosa è come il Lazio che ha avuto come se avesse avuto 80 nuovi casi al giorno una cosa è la Lombardia che ha avuto mille casi al giorno quindi dobbiamo considerare anche questo noi abbiamo fatto le autopsie uno perché abbiamo una sala autoptica a livello 3 e ha un'area aggiuntiva per la protezione dalla Creutzfeldtaco dove è stato fatto sono state fatte anche le procedure lavorative di Ebola ma è una cosa difficile poi vorrei dare atto che i colleghi di Bergamo hanno fatto molte autopsie mininvasive che hanno pure pubblicato bene e a loro va tutto il nostro rispetto per questo lavoro con autopsie mininvasive è vero che non ci dicono tutto quello che ci potevano dire ma ci hanno dato come ha detto prima il professore Ascerto informazioni preziosi e infine dal momento che nell'opinione pubblica si è creata l'idea che questa sia un'unica malattia noi ci troviamo di fronte a tante malattie assolutamente diverse ovvero sia ci troviamo di fronte a malattie nell'85% dei casi che non gli succede assolutamente nulla è come avere un banale raffreddore poi ci troviamo di fronte a persone che vanno rapidamente incontro a una sindrome di stress respiratorio acuto quello che in gergo si chiama ARDS e dobbiamo pensare che in questo ambito anche per evitare che noi adesso creiamo una sindrome di ulteriori malati che l'analisi fatta negli ultimi 15 anni per il recupero della funzione polmonare di pazienti con sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave si risolve nel 90% dei casi tra i tre mesi e i 12 mesi quindi arrivando alla fine anche in soggetti anziani e questi non sono studi con questa malattia sono con pazienti che sono finiti in rianimazione per sintome di stress respiratorio c'è un ricercatore che si chiama Erridge che ha studiato a lungo questo e noi dobbiamo considerare quindi che questa è una popolazione molto particolare quando noi diciamo che ci sono pazienti che hanno avuto complicanze di altro tipo dobbiamo sempre quantificarli al numero totale di persone che hanno avuto questa malattia allo stesso modo noi abbiamo qualche informazione preliminare da studi effettuati su pazienti cinesi con quant'è il ritardo di recupero della parte respiratoria e cose che sono ancora troppo recenti ma ci fanno vedere in un quadro verosimilmente meno grave di quello che è lo scenario che c'era sembrato in un ultimo momento infine il meccanismo futuro perché l'Italia sta facendo un grande investimento avrà sicuramente un miglioramento delle strutture di terapia intensiva avrà un potenziamento delle strutture di malattie infettive e di pneumologia quello che sarà importante è non perdere quest'occasione per capitalizzare e trasformarla in un strumento utile per altre patologie se non facciamo questo noi rischiamo di perdere l'unica occasione che abbiamo dal 1990 di riformare il servizio sanitario con due raccomandazioni le epidemie non si possono gestire senza una vera catena di comando e il modello di gestione centrale lo Stato deve avere la possibilità di farsi carico e di determinare quelle che sono le scelte se questo io mi occupo da sempre di malattie infettive ma credo che questa sia una scelta sul modello di prepararsi per il futuro che deve diventare una parte importante infine sempre all'onorevole Bagnasco le indicazioni dell'istituto superiore sanità sulle autopsie erano probabilistiche e non deterministiche e grazie al fatto che non dicevano non si possono fare si raccomanda di ha fatto sì che i colleghi soprattutto i colleghi della Lombardia hanno potuto fare applicando procedure di sicurezza e con tecniche mini invasive un gran numero di autopsie quindi dobbiamo compenetrare il desiderio di trovare e cercare soluzioni con i modelli organizzativi tenendo presente che anche il discorso che si è fatto e che è stato virale sui social e parina o altre cose noi abbiamo visto tante cose virali ma dobbiamo considerare che l'eparina è parte del trattamento normale per pazienti allettati per lungo tempo è parte integrante della profilassi della trombosi in pazienti che hanno avuto traumi e altre cose quindi questo è un quadro che è vicino alle sepsi è vicino alla sindrome respiratoria acuta grave e che non tutti i pazienti si presentano allo stesso modo non si può applicare un'unica norma per valutare tutti questi pazienti che sono stati osservati in aree diverse in contesti geografici diversi in livelli di circolazione diversa del virus e in capacità di mettere in atto risposte pronte sul territorio assolutamente non omologhe grazie grazie c'è una recitazione dell'onorevole Boldi sì mi scusi ma non per insistere sempre sullo stesso tema ma non pensa che sarebbe stato meglio se l'istituto superiore di sanità avesse da subito raccomandato di fare le autopsie con tutte le precauzioni del caso io vede sulla porta della sala settoria dell'università di Pavia dove ho fatto medicina c'era una scritta che credo ci sia su tutte su tutti gli ambienti mors gaudet succurere vita cioè quando non si sa qual è la causa vera che porta a morte un paziente per un'affezione si fa l'autopsia perché facilmente questo aiuta a capire diverso è il caso di pandemie che sono provocate da agenti di cui magari si conosce molto allora forse se l'istituto di sanità ammettesse di avere un pochino sbagliato come peraltro ha sbagliato all'inizio su altre indicazioni tipo quando fare i tamponi ecco forse sarebbe il caso grazie grazie c'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda dell'onorevole Boldi sono impolito credo che la domanda vada posta all'istituto superiore di sanità ma questo fa parte di definire un modello nazionale di risposta perché ripeto la gestione delle emergenze si fa prima non quando si verificano e le posso garantire che gli altri paesi ha avuto molte difficoltà e questo non per fare una difesa d'ufficio dell'istituto ma solo perché la la felta di di alcune decisioni non se lei legge bene la circolare è scritta in maniera probabilmente non sufficientemente chiara perché tutti avessero la percezione che ove possibile poteva essere utile fare le autopsie però deve considerare anche il momento e deve considerare che tutte le agenzie internazionali si sono rincerate e da ultimo che l'organizzazione mondiale sanità si è distinta come in precedenti esperienze per essere non precisa non indicativa e soprattutto senza una solida base clinica vorrei dire anche su questo che l'organizzazione mondiale sanità ha offerto agli stati membri un form di raccogliere i dati e in zona realmente pandemica se raccoglievano i dati non assistevano i malati quindi dobbiamo anche dire che le cose che si possono chiedere da chi sta a Ginevra seduto su una bella scrivania e non ha nessun problema spesso sono diversi da chi si trova in prima linea poi gli errori sono stati fatti dovunque probabilmente gli errori ne ridurremo l'impatto nella prossima epidemia che speriamo non ci siano ma dobbiamo pensare che non abbiamo avuto aiuto reale dalle agenzie internazionali e ne è una prova per tutte l'uscita di ieri sul fatto degli asintomatici ci hanno triturato scusi ci hanno rotto l'anima in questi anni in questi mesi quando dicevamo che il cibo poteva trasmettere anche gli asintomatici e ci hanno detto no è il 20 il 30 arrivare con uno studio pubblicato il primo dicembre il primo di aprile a dire questa stessa cosa significa che le agenzie mostrano tutto il loro limite anzi consentitemi un piccolo commento il il dipartimento di stato inglese fa ogni anno un paper value delle agenzie internazionali e le agenzie internazionali ne escono malissimo incluso quelle localizzate in Italia ed inclusa l'organizzazione mondiale sanità benissimo grazie 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 a tutti vi ringraziamo per il vostro contributo vi auguriamo buona giornata e buon lavoro e dichiaro conclusa l'audizione odierna grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti